Siamo in Golena, sono i piavi dove si è svolta oggi la regata di Voga alla Veneta organizzata dal gruppo remiero di Meulo. Vediamo com'è andata. Abbiamo lavorato molto e siamo riusciti a fare una regata molto competitiva, come avete visto, molto piacevole e siamo contentissimi. Oggi c'erano 10 coppie di uomini, in mascheretta sempre, e 12 coppie di donne. Ha vinto della categoria degli uomini il bianco, Enzo Giovanni e Nogarotto Marco, di Cavallino Treporti e di Voga Concordiese. Per le donne, invece, il verde, Bortolozzo Marta, Cannottieri Mestre e Piva Elena della Remiera di Oriago. Qual è la difficoltà nel remare alla Veneta? Allora, diciamo che la difficoltà maggiore è acquisire una buona tecnica e l'equilibrio, perché, come avete visto, si voga in piedi, no? Vogando in piedi non è come vogare seduti, quindi bisogna avere un maggiore equilibrio, e quando l'acqua è liscia anche ci va bene. Quando comincia ad essere mossa o un devento, allora lì cominciano ad esserci problemi, quindi ci vuole tanto allenamento e tanta pratica, però alla fine la passione è quella che conta, perché questo è uno sport che è molto molto faticoso. Difatti la voga a Veneta, io dico sempre, è sofferenza, però la passione è tanta. È uno sport comunque molto antico. Quali valori avete cercato di trasmettere? Ecco, riprendendo questo tipo di voga, noi vogliamo mantenere viva le tradizioni di uno sport, ma che è anche un modo di lavorare, che è anche un modo di vita. Siamo 45 iscritti, ma il rapporto tra campioni e iscritti è uno dei più alti, perché abbiamo due campioni italiani, abbiamo ragazzi che sono andati benissimo in storica il primo anno, abbiamo una persona che tra l'altro è l'organizzatrice, che ha fatto 15 storiche, abbiamo un quasi ottantenne che ancora è difficile battere. Grazie a tutti.